Ogni mattina, quando accendo il mio pc, una ventola ad air flow comincia a girare e sa che dovrà girare molto forte. Ogni mattina, nel mio pc, quando lo accendo, una ventola ad alta pressione statica comincerà a girare e sa che dovrà girare più velocemente della ventola ad air flow per pareggiare il volume di aria mossa. La morale della favola è che non importa se tu sia una ventola ad air flow o una ventola ad alta pressione statica, l'importante è che cominci a girare. Ciao belli, bentornati sul Punto di G, io sono il vostro G e come avete potuto capire dall'intro pseudo-filosofico, oggi si parla di air flow, e cioè il flusso d'aria all'interno del vostro pc, perché si basa su una cosa che molto spesso ci dimentichiamo esista al mondo, e cioè la fisica, ragazzi belli. Quindi preparatevi una spiegazione molto molto semplice, perché è inutile stare qui a parlare di veri e propri numeri, l'importante è capire il principio, se poi voi voleste approfondire i produttori di ventole o comunque di case, hanno tutte le specifiche, tutti i numeri che vi piacciono tanto. Ma prima di andare al vivo del video, vi ricordo che c'è lo sponsor che dura 45 secondi e se volete poter skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo pc. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti per quanto riguarda il mondo dei pc, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione. E ricordate di dire che vi manda il punto di G. Airflow, 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 dall'inglese flusso d'aria. Allora, 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 partiamo subito con l'analizzare delle cose che dovrebbero essere elementari ma che molte volte noi dimentichiamo di aver appreso nel nostro percorso scolastico, ecco. La prima legge della termodinamica dice che un corpo più caldo cede calore al corpo più freddo fino a raggiungere l'equilibrio termico. Avete presente quando in inverno ci sono i riscaldamenti accesi in casa, uno apre la finestra e un altro dice chiudi la finestra che entra freddo? Non è così, non è il freddo a entrare, bensì è il calore a uscire. Perché in quel caso il corpo più caldo è la massa d'aria calda all'interno della stanza, il corpo più freddo è l'aria che c'è fuori e quindi, beh, sì, si cedono calore fino a raggiungere l'equilibrio termico che purtroppo non può esserci perché l'aria presente fuori è svariate, penso, svariati milioni di migliaia di volte in maggior numero rispetto a quella nella vostra stanza, quindi capite benissimo che è uno scontro impari. Nel vostro case, beh, avviene un fenomeno molto molto interessante e cioè si viene a creare un vero e proprio flusso perché l'aria per circolare in maniera agile, appunto, deve creare un flusso aiutato dalle ventole presenti nel vostro case. Nel mio case ci sono ben due ventole sotto, quattro qui di lato, quindi siamo a sei, e tre ventole del dissipatore su, quindi ci sono nove, ce n'è una qui che è il dissipatore del secondo PC ma in questo momento è spento, quindi non lo terremo in considerazione. Come funziona il flusso d'aria all'interno del mio case? Allora, ci sono tre ventole in intake, quindi tre ventole che succhiano aria dall'esterno verso l'interno, tre ventole che da sotto, di nuovo, buttano aria dall'esterno verso l'interno del case e quattro ventole che buttano aria fuori. Adesso voi direte, G, perché è così? Allora, perché ci sono praticamente in totale tre flussi d'aria, quattro se vogliamo contare quello della GPU, perché la scheda grafica prende aria fresca da sotto, ok? Le ventole cominciano a girare, raffreddano la parte lamellare, il metallo all'interno, comunque il corpo dissipante all'interno della scheda video, il calore viene espulso parte fuori dal case, quindi dietro il case, ma parte, batte qui contro il vetro. Infatti il vetro temprato, per quanto sia bello da vedere, è un vero e proprio insieme di falange, falangine e falangetta nell'antro anale per quanto riguarda la dissipazione del calore. I flussi d'aria che convergono da sopra e da sotto strizzano letteralmente l'aria calda che c'è qui, che viene spinta parte fuori e parte verso queste quattro ventole che sono più che ottime per dissipare il calore. La parte più difficile quando si tratta di dissipare il calore all'interno del vostro case non è farci entrare l'aria, perché, raga, è la fisica, l'aria entra dappertutto e se non mi credete posso darvi una dimostrazione. Molto semplice. L'aria trova un modo di entrare. Il problema è dissipare il calore in eccesso in, sapete, un ambiente circoscritto, comunque un ambiente piccolo in cui ci sono componenti che generano molto calore, perché oltre al calore della scheda video bisogna considerare il riscaldarsi comunque delle fasi di alimentazione dei MOSFET della scheda madre e quindi è tutto calore che deve essere dissipato in qualche modo. In un case più classico il flusso d'aria dovrebbe funzionare in maniera orizzontale. Ad esempio, il case che starei vedendo in sovraimpressione ha un pattern di flusso d'aria molto semplice. L'aria fresca entra dalla parte frontale, fa tutto il giro nel case e le ventole che sono sopra e dietro nella parte quindi superiore e posteriore del case servono a buttare fuori aria calda che viene sì spinta dall'aria fresca in entrata delle ventole ma che essendo di per sé più calda tende a salire e quindi viene facilmente dissipato o comunque buttata fuori dalle ventole, come ho detto, nella parte posteriore e superiore del vostro case. A questo punto è doveroso però fare un paio di precisazioni. Le ventole qui all'interno del mio dissipatore a liquido un NZXT Z73 sono in intake, in pull cioè non spingono aria attraverso il radiatore bensì sono dall'altro lato sopra c'è il radiatore quindi l'aria la succhiano. Perché questo? Potrei guadagnare qualche grado se mettessi le ventole in push cioè che spingono aria verso il radiatore o meglio attraverso il radiatore. Ma perché faccio così? Perché raga provate voi a togliere poi la polvere da un radiatore se le ventole spingono aria. La polvere è molto più difficile da togliere si riaccumula molto più facilmente per via del principio dell'elettricità statica e quindi preferisco averle in pull quindi che succhiano aria dal radiatore e non permettano alla polvere di sedimentarsi. Un'altra cosa importante che ho detto all'inizio del video è che esistono fondamentalmente due tipi di ventole ventole ad alta pressione statica e cioè che muovono meno aria ma la muovono in maniera più consistente che sono quelle ottime da utilizzare nei radiatori perché permettono variazioni di temperatura molto 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 poco brusche quindi consentono un mantenimento della temperatura più omogenea all'interno del corpo lamellare del radiatore ed esistono ventole per airflow le ventole per airflow muovono un maggiore flusso d'aria lo muovono in maniera non così precisa non così costante ma sono quelle ottime per beh ecco muovere il calore in eccesso all'interno del vostro case. Esiste una distinzione talmente grande da non lo so farvi dire oddio se metto adesso una ventola ad alta pressione statica che al posto di una ventola ad airflow non muove abbastanza calore all'interno del case no fondamentalmente no questa distinzione esisteva anni fa perché tanti anni fa le ventole ad airflow avevano le eliche molto più fini al giorno d'oggi le ventole ad airflow con l'ingegnerizzazione migliore dei processi riescono praticamente a fare tutto le ventole a pressione statica sono comunque migliori per un dissipatore ma voglio dire non è che perdete o guadagnate molti gradi se scambiate delle ventole su un radiatore o comunque sul vostro chassis un'altra cosa importante che molte persone dimenticano è che non riuscirete mai a dissipare bene il calore all'interno del vostro pc se l'ambiente circostante si sorriscalda molte volte ciò che fa sorriscaldare il vostro pc non è tanto il calore emesso dalle componenti bensì quanto il non riciclare l'aria all'interno della stanza in cui è situato il pc quindi ogni tanto aprite la finestra fate arieggiare così che il calore possa uscire non entrare il freddo la temperatura della stanza possa abbassarsi e il sistema di dissipazione possa effettivamente lavorare in maniera molto più efficiente c'è un modo per capire se il vostro flusso d'aria è corretto o comunque ci sono dei turbini beh sì esistono vari modi uno dei molti metodi è quello lì o di... beh non so chi ha giocato Metal Gear Solid 1 c'era Snake che per vedere i raggi laser fumava una sigaretta non vi sto dicendo di fumare una sigaretta davanti al vostro case potete utilizzare, non lo so, un incenso un bastoncino di incenso se voi lo accendete il fumo emesso dal vapore d'incenso vi permetterà di vedere dove esso viene succhiato all'interno del case e dove viene cacciato questo è un ottimo modo che oltretutto vi profuma la stanza quindi GG si può fare inoltre vi lascio un video in descrizione di Linus Tech Tips di qualche anno fa in cui si faceva vedere come avere degli ostacoli all'interno del case per quanto riguarda il flusso d'aria non è che dia troppo fastidio alle temperature interne dei componenti e comunque bisognerebbe davvero murare con materiale isolante i luoghi dove appunto i posti del case dove entra appunto l'aria per creare un vero e proprio innalzamento di temperatura quindi l'airflow fatto bene è un vezzo, un perfezionamento fatto sta che è meglio che il calore prodotto specialmente dalla vostra scheda video esca fuori dal case piuttosto che rimanga all'interno non so chi ricorda le schede video Nvidia della serie 1000 con il dissipatore Blower Style era una ventola che praticamente al posto di buttare calore all'interno del case raffreddava la GPU e lo buttava direttamente nella parte esterna del case e questa cosa è molto utile specialmente per chi utilizza dei server e utilizza varie schede grafiche una sopra l'altra perché appunto il calore non rimane all'interno del case bensì me ne buttarò direttamente fuori ogni ventola funziona abbastanza bene per fare quello che volete fare ciò che differenzia una ventola chip da una ventola premium sta nella rumorosità della ventola perché una ventola che gira a RPM più alti quindi round per minutes a velocità più alte genera più rumore ottime marche per delle ventole che hanno un'ottima pressione statica un'ottimo airflow un'ottima rumorosità possono essere Noctua Lian Li Corsair NZXT Be Quiet ne ho dimenticata qualcuna fatemi sapere voi che ventole avete nel vostro PC sono abbastanza interessato davvero detto ciò ragazzi un ottimo flusso d'aria è soprattutto indicato per chi ha un dissipatore ad aria all'interno del case perché l'aria fresca in entrata aiuta appunto le ventole presenti sul corpo lamellare del dissipatore a raffreddare meglio la CPU quindi questo è ciò che dovete sapere riguardo l'airflow nel vostro case fatemi sapere voi cosa ne pensate lasciandomi un commento e ricordate di mettere un mi piace iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto di G e ci vediamo alla prossima con non so che cosa ma sicuramente con una nuova scheda madre e magari la recensione di una scheda video interessante grazie mille per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima sempre qui sul punto di G sempre qui col vostro G ciao ciao belli ciao grazie a tutti